Ciao ragazzi, ciao a tutti! Partiamo subito dicendo che questo è un video extra, è un video dove io mi rivolgo direttamente a voi che state guardando, quindi per favore guardatelo fino alla fine e ascoltatemi attentamente, perché è importante. Volevo spiegarvi alcune cose brevemente riguardo ciò che sto facendo e come questo va anche a direttamente a toccare voi. Allora, io mi sto impegnando il più possibile nonostante gli impegni lavorativi, nonostante tutto il resto che c'è al di fuori di YouTube, perché ovviamente ho anche delle dirette e via dicendo. Io mi sto impegnando il più possibile e il mio impegno va ovviamente in base a ciò che ritorna sul canale, quindi iscritti, like, commenti, non sto parlando di sub, non sto parlando di donazioni, non mi interessano quelle. Quelle sono cose che se arriveranno, arriveranno in futuro e quando ci saranno altri numeri. E adesso mi sto rivolgendo direttamente a voi perché questo video secondo me funziona molto meglio quando siamo ancora in pochi piuttosto che quando ci sono un miliardo di iscritti, perché a quel punto non credo che la cosa abbia lo stesso impatto. Io mi sto rivolgendo direttamente a voi, direttamente a voi ragazzi che ci sentiamo su Discord, parliamo, ci raccontiamo anche i nostri cavoli. Quindi questo è il discorso, ho bisogno di supporto, di supporto inteso come condivisione, non come sub, come ho detto prima, o donazioni, ma come condivisione. Ho bisogno di ottenere immagine, immagine quindi anche semplicemente prendendo ognuno di voi, anche un solo amico vostro e dirgli lascia il like a questo video, iscriviti a questo canale perché è divertente, guarda che magari ti piace. E' solo questo che vi sto chiedendo, prendete i vostri amici, strozzateli, no, semplicemente fategli vedere qualcosa, fatemi un po' di pubblicità ragazzi, perché la pubblicità è molto costosa e io non posso permettermela. Quindi è tutto in mano vostra, capito? È tutto assolutamente in mano vostra e io non posso far altro che appellarmi a voi che avete deciso liberamente, spontaneamente di seguirmi e di questo ve ne ringrazierò sempre, mi fa molto piacere. Però sinceramente sto attraversando un periodo un po' di sconforto riguardo alla parte di YouTube e Twitch, non tanto perché le cose vadano male, perché non vanno male, stiamo comunque aumentando di numero tutto quanto, ma vorrei dare un boost a tutto questo. Perché io tenete conto che più iscritti vedo arrivare, più like vedo arrivare, più commenti vedo arrivare e io più mi impegno a portarvi contenuti sempre migliori e con la maggior frequenza e precisione possibile. Quindi lascio la palla a voi, è tutto in mano vostra, spingete, 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 condividete, condividete questo video, vi lascerò in descrizione comunque anche direttamente il link della home del canale, così non dovete tornare a cercarvelo, potete direttamente copiarlo da qui sotto. E a questo punto io vi ringrazio, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, essere stati ad ascoltarmi. Prendetelo un po' come un piccolo diario di bordo anche, che poi magari porterò anche qualcos'altro, non lo so, però intanto facciamo così. È una condivisione che volevo fare io per primo con voi e adesso la condivisione è in mano vostra. Quindi grazie ancora ragazzi e noi ci vediamo in qualche live o qui sotto nei commenti. Tanto li leggo tutti, vi rispondo sempre quando ovviamente il commento necessita di una risposta, una domanda, quello che volete. E grazie ancora, a presto!